L'attività che svolgiamo quotidianamente nel territorio, lo svolgiamo con la nostra massima lealtà, trasparenza e non abbiamo paura di affrontare la gente che ci riceve, che ci accoglie in ogni comune dove stiamo andando con la massima sincerità, con la massima affetto e con la forza che ci stanno dando per continuare ancora perché in questa provincia c'è tanto da sistemare, c'è tanto da mantenere come l'aeroporto, come le potenzialità dei nostri coltivatori, allevatori, del nostro mondo degli artigiani. In questo territorio come Paceco tante somme sono state rilasciate negli ultimi dieci anni della mia attività politica, non per ultimo il rischio erogeologico del Rocchepallumere, non per ultimo questa bellissima scuola che è l'esempio dell'opera mussoliniana nel passato e apre la scuola a Paceco è anche un mio merito dovuto a finanziamenti raccolti negli anni passati, quindi penso che anche qui come Paceco come negli altri comunità dove siamo andati a girare sarà anche il giorno 6 a festeggiare assieme a me questo grande evento e questo risultato politico che portiamo avanti da dieci anni.